Allora, buongiorno ragazzi! Abbiamo visto finora come fare la scomposizione in fattori primi utilizzando il grafo ad albero. Ora faremo la scomposizione in fattori primi, quella che useremo sempre, che è la scomposizione in fattori primi mediante la fattorizzazione. Quindi quella che utilizzeremo quando dovremo scomporre un numero come prodotto di fattori primi. Allora, passiamo alla lavagna. Noi abbiamo, quindi, cosa significa scomporre in fattori primi? Scomporre in fattori primi significa scrivere quel numero come prodotto di due o più fattori primi. Quindi solamente fattori primi e non naturalmente fattori composti. Se noi dobbiamo, ad esempio, scomporre il numero 252, noi scriveremo il numero 252 la penna bianca, 252 poi faremo una linea di divisione in questo modo, un po' più dritta naturalmente e poi sulla destra noi che cosa faremo? Metteremo, quindi qua e il numero, qui a sinistra metteremo il numero che dobbiamo scomporre poi facciamo la linea, a destra della linea metteremo invece i fattori primi quindi solamente i divisori primi, numeri primi, dobbiamo mettere sulla destra. Va bene? Quindi possiamo mettere il 2, il 3, il 5, il 7, l'11, il 13, il 17, il 19, il 23, eccetera, eccetera. Naturalmente cominceremo sempre a vedere se i più piccoli dividono questo numero il fattore più piccolo divide questo numero utilizzando i criteri di divisibilità. Qui ad esempio io so che il numero 252 è un numero divisibile per 2 perché termina con 2, quindi io metterò il numero 2 sulla destra e poi farò 252 diviso 2. Allora il 2 diviso 2 ci sta una volta il 2 nel 5 ci sta due volte con il resto di 1, lo metto qui e il 2 nel 12 ci sta 6 volte. Quindi ho ottenuto il numero 126. Vedete? Quindi cosa faccio adesso? Divido il numero 126 e provo di nuovo diviso 2. È sempre un numero divisibile è sempre divisibile diviso 2 in quanto termina con una cifra pari. Quindi descriverò di nuovo il numero 2 e poi farò il 2 diviso il 12 ci sta 6 volte con il resto di 0 2 diviso 6 ci sta 3 volte ottenuto come quaziente il numero 63. Adesso devo continuare. Naturalmente non potrò dividere per 2 perché il numero 63 non termina con una cifra pari quindi provo con il criterio di divisibilità per 3 63 fa 6 più 39 è divisibile per 3 quindi posso dividere diviso 3 che è un altro numero primo quindi farò 6 diviso 3 che fa 2 3 diviso 3 che fa 1 Adesso dovremmo dividere naturalmente il numero 21 21 non è divisibile per 2 ma è divisibile per 3 e farà 7 Inoltre siccome so che 7 è un numero primo può essere diviso solamente per se stesso quindi scriverò 7 diviso 7 che fa 1 Quando sono arrivato al quaziente 1 allora avrò finito la mia scomposizione in fattori primi e quindi potrò scrivere il risultato quindi 252 scomposto in fattori primi è uguale a 2 per 2 per 3 per 3 per 7 ovvero 2 alla seconda per 3 alla seconda per 7 e quindi scriverò il risultato Cancello questo che non mi serve quindi scriverò 252 è uguale a 2 alla seconda per 3 alla seconda per 7 quindi questo numero è stato scomposto in fattori primi vedete anche qui così abbiamo ottenuto il risultato Proviamo adesso a scomporre degli altri numeri così da esercitarci un poco prendiamo una nuova lavagna creiamo una nuova lavagna e facciamo la scomposizione del numero 60 quindi scrivo il numero 60 lo scrivo poi faccio la linea e comincio a scomporre allora vedo che è scomponibile diviso 2 si può dividere è divisibile diviso 2 perché termina con una cifra pari che è lo 0 quindi faccio 60 diviso 2 che fa 30 30 è ancora divisibile per 2 che fa 15 15 non è divisibile per 2 ma è divisibile per 3 perché 5 più 1 fa 6 quindi 15 diviso 3 fa 5 5 è un numero primo e quindi ottengo come quoziente 1 significa che ho finito quindi potrò scrivere il risultato e scriverò 60 uguale a 2 alla seconda per 3 per 5 quindi ho scomposto il numero 60 in fattori primi infatti se io provo a vedere 2 per 2 fa 4 4 per 3 fa 12 12 per 5 fa 60 vedete io ho ottenuto questo numero 60 scomposto in fattori primi proviamo a scomporre il numero 96 96 è divisibile per 2 perché termina con 6 il 2 nel 9 ci sta 4 volte perché 4 per 2 fa 8 con il resto di 1 lo scrivo qua sopra il 2 e il 16 diviso 2 fa 8 quindi 48 48 è ancora divisibile per 2 e fa 24 24 è ancora divisibile per 2 e fa 12 12 è ancora divisibile per 2 e fa 6 6 è ancora divisibile per 2 e fa 3 3 è un numero primo e quindi ho finito potrò scrivere il mio risultato quindi 96 scritto come prodotto di fattori primi lo scriverò 96 uguale 2 alla quinta 1,2,3,4,5 quindi 2 alla quinta per 3 provo a scomporre un altro numero il numero 85 85 provo non è divisibile per 2 perché non termina con una cifra pari provo a vedere se è divisibile per 3 8 più 5 fa 13 quindi non è divisibile per 3 il successivo numero primo è il 5 ed effettivamente è divisibile per 5 perché termina con 5 quindi faccio 85 diviso 5 e vedete il 5 nell'8 ci sta una volta con il resto di 3 il 35 il 5 nel 35 ci sta 7 volte infatti 7 per 5 è 35 quindi scusate 17 ora 17 17 è un numero primo quindi è divisibile solamente per se stesso quindi scriverò 17 diviso 17 che fa 1 e questa si è finita subito quindi potrò scrivere che 85 5 è uguale a 5 per 17 perché è stato scomposto come fattore primo quindi ritornando alla lavagna precedente abbiamo visto come si effettua la fattorizzazione quindi la scomposizione in fattori primi mediante la fattorizzazione quindi sulla sinistra va messo il numero che deve essere scomposto faccio la linea una linea verticale e sulla destra metto tutti i fattori primi cominciando dal più piccolo per andare a vedere qual è che mi dividerà il numero che voglio scomporre fino ad arrivare a quaziente 1 e infine scriverò il risultato sotto forma di prodotto di fattori primi quindi per oggi la lezione abbiamo finita questo è il metodo che servirà per scomporre in fattori primi quando dovremo calcolare ad esempio il minimo comune multiplo il massimo comune divisore e per tutte le altre volte in cui ci servirà un numero scomposto sotto forma di prodotti di fattori primi buona giornata grazie